La cosa che ci preoccupa di più, oltre che il costo servizi che era già pesante ad oggi, è il caro bollette, il costo dell'energia che sicuramente andrà triplicandosi e c'è tanta morosità che può rischiare di diventare sfrato anche per coloro che risiedono nelle casse popolari. Piove sul bagnato, temiamo un'impennata dei morosi. Così Fabrizio Raffaelli, direttore di Arezzo Casa, in merito al caro bollette che investirà a breve anche gli inquilini delle case popolari. Cioè il metano si abbassa e aumentano le bollette. Dovrebbe essere il contrario, se abbassa il metano dovrebbero abbassarsi le bollette. Che tipo di gioco ci sia? Prezzi di luce e gas che mandano in malora i bilanci familiari. Se non ci sarà un intervento serio da parte del governo per un sostegno a questa parte di costi, sarà veramente drammatico. Un problema che si abbatte su tutti i cittadini indiscriminatamente, ma il cui impatto sarà molto più forte nelle fasce di popolazione già sulla soglia dell'indigenza. O si mangia o si paga le bollette. Il lavoro c'è contato e non si sa come fare. Io per dire, nel mio caso, io sono con il mio figliolo, siamo due persone. Lui è invalido perché insomma c'è un problema a 22 anni. Io ho l'invalidità, una percentuale abbastanza alta, non prendo niente perché non supero quel livello. Come si fa? Come si fa? A volte si fa la carta a mangiare. Si aspetta sempre la fine dell'anno per rimettere a posto un po' di conti perché se paghi quella devi aspettare quell'altra, magari paghi quell'altra e poi aspetta quella. Per ora va abbastanza bene, vedo che aspettano, cioè non c'è stato, sì qualche sollecito. Mi sembra che il problema a casa non interessa quasi a nessuno, cioè non ci sono delle vere e proprie risorse per far fronte a questo, senza rendersi conto che è un problema sociale. E i problemi sociali dopo si ripercuotono su tutto, cioè anche cose che sembrano in quel momento non interessare. Quando inizia la rabbia dentro, veramente dentro, secondo me è pericoloso.